Musica Un buon inizio di giornata con la rassegna stampa di Mattino 6. Venerdì 22 novembre, quest'oggi in primo piano la politica, mentre si avvicina l'appuntamento elettorale in Emilia Romagna e in Calabria, ma anche tanta cronaca abruzzese. E proprio dall'Abruzzo partiamo andando sul centro, sul taglio alto, pedaggi autostrade, niente rincari, voti alla Camera, gli aumenti in A24 e A25 sospesi fino a tutto il 2020. Nella fotonotizia la Serie B, due tecnici a confronto, del Pescara, Luciano Zauri e della Cremonese, l'ex Baroni sulla strada del Pescara. Zauri cerca la terza vittoria di fila questa sera all'Adriatico. La sanità, nuova mappa degli ospedali, veri spiega il piano regionale. A Pescara la viabilità, commercianti del centro bocciano la zona traffico limitato. E la nuova biblioteca per l'università sarà aperta fino alla mezzanotte. A Pescara a colpo di scena tentò di uccidere il marito, cambia l'avvocato in aula. La cronaca a Roseto, muore a 16 anni trovato dalla mamma. Ragazzo stroncato da un infarto, altra tragedia a Roseto, il sindaco, paese sotto shock. Andiamo sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto. La fotonotizia, il premio per Don Luigi Ciotti, festa di democrazia e impegno civile. Lo vedete nella fotonotizia, il leader di Libera. Chieti, ecco le isole per i rifiuti, via i parcheggi. A Chieti, ponte a rischio, crollo, nessuno è colpevole. Adattessa furto di gasolio, l'ado arrestato, un altro è in fuga. Andiamo sulla prima pagina di Teramo, che ovviamente apre con l'immagine del ragazzo trovato senza vita dalla madre. A Tortoreto, nuovo scontro tra Comune e Manacara. La gestione dei rifiuti, la Team, pronta a modificare il porta a porta. A Silvi, la giunta accelera, Silvi alta, piano per cambiare il centro storico. Bus per l'Ateneo, allo studio altre linee. Il Comune tenta di fermare la protesta e chiama un confronto la Baltur e Ludu. Andiamo sulla prima pagina dell'Aquila, di Avezzano e di Sulmona. Nella fotonotizia i medici si vaccinano tra loro contro il virus dell'influenza, uno spot per la campagna di vaccinazione delle Asle. All'Aquila il capo dello Stato, Mattarella, lavori al Duomo per la rinascita. Ad Avezzano, invalido dopo l'intervento. L'Asl è stata condannata e sempre nel capoluogo abruzzese il nuovo parco del Castello torna alla città. Leggiamo anche nel taglio basso, morte generale Conti, altre indagini. A Sulmona il PM chiede al giudice la proroga per la complessità degli accertamenti. Andiamo ora sulla prima pagina che il messaggero dedica alla nostra regione, che apre con la notizia della tragedia di Roseto, ucciso da un malore a 16 anni. Il ragazzo non si alza per andare a scuola, trovato senza vita dalla madre. Il medico legale, la causa della morte è un infarto. La salma consegnata ai genitori, ma anche la sanità, l'assessore Veri, i superospedali. Non ci sono le condizioni. Le agevolazioni per i bed and breakfast, il Tar dà ora l'ok alla regione. Il giallo straccia, il boss mafioso cambia a versione. Non più scambio di persona con il cognato, nel mirino dei killer probabilmente c'ero io. D'Avezzano, due anni in cella per stupro, ma era innocente. Nella fotonotizia riconoscete le immagini della tragedia di Rigopiano, dei pistaggi subito dopo il crollo e le richieste di aiuto sono state ignorate. Ma ancora la questione delle autostrade. Il ministro blocca il caro Pedaggi, abbiamo visto almeno fino al 2020. Andiamo ora sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Sedicenne muore nel sonno. Studente rosetano trovato senza vita dalla madre, struncato da un infarto fulminante. Nel taglio alto, nuova fase per Team, Prandin probabile, amministratore delegato. Primo contatto tra sindaco e Comir. A Teramo, in l'ospedale nuovo, c'è un doppio ordine del giorno. La cronaca, migrante salvato dal suicidio su Ponte San Francesco. La fotonotizia, fregatura a caro Pedaggi, l'accusa della città, il governo annuncia il blocco annuale degli aumenti, ma l'accordo era per due. Nel taglio basso, due teramani neguai per false assunzioni, 37 a processo a Chieti per i prestiti ottenuti dalle finanziarie. Nel taglio basso, ambiente, sindaci e cittadini in regione per la piattaforma dei rifiuti. Don Luca, carabiniere di Dio, celebra la festa dei carabinieri a Giulianova. Roseto degli Abruzzi, nuovo argine sul vomano, la discarica del passato, ora non fa più paura. E allora usciamo dai confini regionali e andiamo sui quotidiani di portata nazionale. Iniziare dal Corriere della Sera, che quest'oggi ha una grafica tricolore. In primo piano la politica, i 5 Stelle da soli in Emilia. La base vota contro le indicazioni dei vertici. Bonaccini, regalo alla destra. Il parere del 70% su Rousseau. La decisione vale anche per le elezioni in Calabria. Forse è la prima volta, mi pare, che Rousseau voti diversamente dalle indicazioni dei leader del partito. Il sottosegretario Buffagni dei 5 Stelle, niente scudo all'azienda che ha inquinato paghi a proposito della questione dell'ILVA. E ancora il vice segretario leghista Giorgetti, invece sulla legge elettorale un tavolo con tutti. Nella fotonotizia, la notizia che arriva dalla Cile, il giallo dell'artista Mimo, la vedete in foto, impiccata in Cile. Le femministe è torturata dopo aver protestato. E' grande polemica in Cile, dove continuano le proteste contro il governo. E una delle manifestanti, questa Mimo, questa artista di strada, che vedete in foto, è stata trovata impiccata dopo essere stata violentata e torturata dalle forze dell'ordine cilene. Andiamo avanti sulla Repubblica. La polvere di stelle, la base su Rousseau sconfessa il leader, impone liste in Emilia e Calabria, si complica la corsa del PD Bonaccini. Di Battista in panchina per la successione, oggi Grillo a Roma, ennesimo consiglio dei ministri nella notte. Le sardine in piazza da Sorrento a New York, fermiamo l'odio dei populisti. La politica estera, Netanyahu incriminato, un golpe contro di me, ha detto il capo di Stato israeliano, che è stato appunto incriminato per corruzione. Nella fotonotizia i court play, basta concerti, inquinano. La star del rock seguono il modello di Greta Thunberg. Andiamo avanti sul fatto quotidiano, anche questo quotidiano apre sulla politica. Vedete Luigi Di Maio in foto, vaffa della base, capi, liste 5 stelle nelle due regioni. Il 70% dei votanti su Rousseau, Emilia e Calabria ha sconfessata la linea Di Maio. Lui corriamo soli, ma rischia di condannare Bonaccini, che è il candidato in Emilia del PD, e il governo. Nel taglio alto, scandalo, FCA, GM, le carte, scarpe, fucile e viaggi per pagare i sindacati. Caso Aulla, salta la macchia, generale Manganello, che era un giochino. Andiamo avanti sul fatto, l'ascensore riservato e l'ossessione per le cene. Ecco la reggia Casellati, Palazzo Giustiniani, le regole imposte dalla Presidente del Senato. Andiamo avanti sul mattino di Napoli. Salvini, il via libera a Caldoro, sindaco di Napoli, alla Lega. Il leader del Carroccio, Stefano, è stato un ottimo amministratore. L'ex governatore decide la squadra. Il patto per regione è comune. Sarebbe una questione storica se a Napoli dovesse vincere un leghista, come se dovesse accadere lo stesso anche in Emilia-Romagna. Il reportage a proposito della protesta. Antisalvini, Sardini, il debutto è un flop. A Sorrento, solo 300 in piazza. 5 Stelle, Schiaffo a Di Maio, no alla pausa, candidiamoci. Rousseau, correremo in Emilia e Calabria. Il va piano del governo per aiutare Taranto le condizioni di Conte a darse l'ormittal. Al Italia e dintorni, l'industria dell'eterno salvataggio. La questione è ancora aperta, ma anche torniamo su Napoli. Noi dimenticati nella fabbrica della Whirlpool. La fotonotizia, il Cardarelli, prigioniero delle barelle, la riforma del pronto soccorso mai partita, torna il caos. Le questioni a proposito della sanità sono spinose in tutte le regioni. Il manifesto, curre, curre, guaglio con Di Maio. La citazione dei 99 post. Rousseau sconfessa Di Maio e Grillo. Il 70% della base 5 Stelle vuole correre in Emilia, Romagna e Calabria. Ora il capo del movimento è debole e ha cerchiato. Pessima notizia anche per Bonaccini, candidato del PD. La sua sconfitta sarebbe la fine del mondo. Tirerebbe giù il segretario democratico e il governo. Manifesto che addirittura teme che abbia ripercussioni sul governo nazionale il voto in Emilia. E probabilmente sarà così. Israele ne teniamo sciocca. Andrà a processo per corruzione. La prima volta di un premier alla sbarra in Israele. Il leader della destra reagisce accusando di tentato golpe i magistrati di sinistra. Rifiutando per ora di dimettersi. Anche in Israele si adotta la linea delle toghe rosse. Gran Bretagna e il manifesto di Corbyn punta sul rosso. E ancora a Gioia Tauro una storia che parla a Bagnoli e a Taranto. Leggiamo anche la questione migranti. Dalla Libia a Barconi carichi di bambini. All'Anfon temiamo un nuovo naufragio. Penance e Ocean Key Viking, le due ONG. 300 migranti sono stati salvati. Il manifesto delle Sardine. Energia pulita per la politica. Un ponte con i ragazzi di Greta fuori dalle scatole. E ancora la questione dei 5 Stelle. Crisi pentastellata. I fronti aperti del 5 Stelle. Le piazze delle Sardine. Imo e Tasi. Il comune esattore con il fucile puntato del Fiscal Compact. Ma ancora la questione Ilva che tiene banco. a Taranto e non solo riecco lo scudo. Conte prova a mediare oggi l'incontro coi Mittal. Non una di meno. Violenza sulle donne. Domani in piazza a Roma per dire no al sessismo nella nostra società. Società. Andiamo avanti sul messaggero. Sì, a liste 5 Stelle. Colpo a Di Maio. Rousseau ribalta i pronostici. 70% per l'ok in Emilia e Calabria. Il leader. Corriamo da soli. Poi si sfoga. Mi hanno abbandonato. Oggi Grillo a Roma. Pidì spiazzato. Proviamo ad allearci. La questione dell'Ilva. Oggi il premier vede il Mittal, l'azienda proprietaria dell'industria. Scoglio sugli esuberi Ilva. Il governo rinvia le misure per Taranto. All'Italia senza soci. Il prestito è a rischio. La manovra a sigarette e auto. Ecco la stangata. Le multe arriveranno via e-mail. La fotonotizia dedicata all'argentino Zanchetta che imbarazza il Papa. Tolta ai bimbi la dignità. Abusi. Mandato di cattura per il Vescovo. Un ennesimo scandalo che scuote le mura vaticane. Luca ucciso perché sapeva qualcosa. La mossa dei legali. L'omicidio Sacchi. Intervista in tv. Lui picchiato senza graffi. Ipotesi. Esecuzione per eliminarlo. Maturità. Si cambia. L'orale senza buste. Il dietrofront dal Ministero dell'Istruzione. Ed eccoci sul giornale. Licenziato Di Maio. A proposito del voto su Rousseau. La base umilia e vertici del Movimento. Sì ai candidati in Emilia e Calabria. Candidati espressi direttamente dai 5 Stelle. Quindi non in appoggio al PD. E le Sardine vogliono imbavagliarci la paura del giornale. Escrementi a 5 Stelle nei motori degli autobus. L'assurda idea della sinatrice Labbate. Una proposta che appare molto curiosa presentata così dal giornale. Landini protegge il governo. Niente sciopero contro Conte. Doppio pesismo sindacale. Berlusconi lancia Tajani. Numero 2 del PPA. Il Partito Popolare Europeo. Dopo che ha ricoperto già ruoli di vertice nel Parlamento Europeo. Andiamo sul Sole 24 Ore. Il quotidiano economico finanziario. Che innanzitutto ci informa dell'apertura in calo della borsa Fizemib. MUDIS, banche tedesche sottotiro. Il credito in crisi. L'agenzia di rating abbassa da stabile a negativo l'outlook sul sistema. La Buba rischi sul comparto. Anche la Banca Centrale Europea teme l'impatto dei tassi bassi sugli istituti. E ancora la fotonotizia. Venezia, allarme e manutenzione. Servono 100 milioni all'anno. Rischi anche per le fondamenta linee. Vedete nella fotonotizia i lavori a Venezia. Ma ancora la politica. Schiaffo a Di Maio dalla piattaforma Russo. La base 5 Stelle chiede di presentare liste in Emilia e Calabria. Auto, Friat, Chrysler, Elkan. Bene con PSA. Da gemme solo accuse false. Soccorso pubblico per ex Ilva e all'Italia. Sul siderurgico ipotesi coinvolgimento dello Stato con le sue società. La compagnia aerea è in attesa invece di incassare altri 400 milioni di prestito. Per il caso Taranto. Area a caldo, investimenti e scudo. Così può cambiare il piano. Mentre per quanto riguarda l'Italia, Conte insiste per una soluzione di mercato. La proroga è in arrivo. Nel taglio basso leggiamo cosa dice il ministro Bonafede. Si allenterà la stretta sugli omessi. Versamenti fiscali. 139 miliardi il valore in euro del mercato degli appalti in Italia nel 2018. Riforme, rotazioni e sorteggi negli appalti presi alle imprese più solide. Andiamo avanti sulla stampa e torniamo sulla questione politica. Rousseau, lo schiaffo a Di Maio. Grillo pronto a mettere in discussione la leadership. La scelta rischia di creare tensioni grillini PD all'Italia verso l'ottava proroga. Si tratta ancora Ilva schiarita. Cige per 2.000 investimenti a Taranto. La questione di Rousseau quindi che mette in discussione la leadership di Di Maio nei 5 Stelle, ancora prima degli esiti elettorali nelle due regioni. La decisione degli iscritti 5 Stelle sconfessa la linea del capo politico. Candidature in Emilia e in Calabria. Nella morsa del declino industriale, l'editoriale di Marco De Aglio, intanto l'Italia tace sui diritti di Hong Kong, mentre continuano settimane dopo settimane le proteste contro il governo di Hong Kong e il governo cinese, mentre Unione Europea e Stati Uniti li difendono. A proposito di geopolitica, Israele e Premier Netanyahu l'abbiamo visto incriminato per corruzione e per truffa. Durante l'acqua alta per salvare la Fenice, i cantanti provano a casa del regista. Andiamo sul libero, le sardine tornino in scatola anziché rompere ogni giorno ciò che si augura il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, dalla balena bianca all'acciuga rossa. Pompati dal PD e dai pensatori progressisti, i pesci antilega restano senza idee, ma scrivono a Matteo, cari populisti siete finiti. I sondaggi dicono al contrario, i grilleni bocciano intanto il patto coi democratici. In Emilia andiamo da soli, Di Maio travolto. Nella fotonotizia un personaggio che era scomparso da un po' di tempo dai riflettori dell'opinione pubblica è Antonio Di Pietro. Perfino Di Pietro censura il PM su Ilva e altro. Temo il governo e certi magistrati avrebbe detto l'ex leader di Taglia dei Valori. Capitan Findus Salvini suggerirà anche la nuova sinistra ittica, l'editoriale di Vittorio Feltri, tutto basato sui giochi di parole coi pesci. Parenti serpenti, la famiglia e la casa di omicidi e violenze, tre crimini efferati in 12 ore. Rapita in Africa oltre un anno fa, di lei non si sa più nulla. Perché? Ma che fine ha fatto Silvia Romano? Sta bene, si chiede il giornale libero. Andiamo sul tempo, Conte ha lo scontro finale con i nemici. Benetton, la rabbia di Palazzo Chigi, incontro riservato del governo con i vertici di Atlantia. Volano parole grosse in Alitalia se ci garantite autostrade. Risposta sì, addio. Concessione. Emergenza, allarme rifiuti, lite raggi zingaretti nella capitale. Situazione già critica ma comune e regione si incolpano a vicenda. A proposito della capitale, questa paga una tarida record. Secondo uno studio di Mediobanca, tariffa da 255 euro. È la più alta d'Italia. La fotonotizia, come al solito, è la vignetta di Oscio. Vediamo Toninelli che dice Emo Di Maio. Emo So, direbbe Di Maio. Di Maio in minoranza, pure su Russo. 5 stelle alle regionali. Girano tangenti pure per i lavori in corte d'appello. L'accusa della stampa. Andiamo sulla verità di Maurizio Belpietro. La fotonotizia è dedicata al leader della Lega, Matteo Salvini. Le sardine nelle democrazie in genere non si va in piazza contro l'opposizione. Dice appunto il leader dell'opposizione. Rivolta a 5 stelle, sconfessato Di Maio. Il capo politico aveva detto Siamo in difficoltà, ci vuole una pausa. Invece gli iscritti votano sulla piattaforma. Piattaforma, Rousseau e il SIL impongono di presentare le liste nelle elezioni regionali. Situazione esplosiva. In Emilia-Romagna il movimento è allo sbando. Andremo da soli. Intanto nel taglio basso il grande finanziatore ammette Ho dato soldi al PD, non alla Lega. Parnasi e PM è vero, il contributo per EIU era un pagamento mascherato. E' questa gara a chi ha ricevuto maggiori finanziamenti illeciti nella nostra politica. Riscatto dell'Unione Europea. Il Fondo Salva Stati va approvato così. Blitz di Moscovici al Quilinare. Intanto andiamo avanti ancora sulla questione degli affidi su cui batte la verità. Affidi facili, i democratici sabotano le indagini. Sui bimbi rubati, gli avvocati sfiduciano i giudici. Minorili. Il taglio basso, la cupola dei giornali per imporre il credo Greta. Ben 323 testate aderiscono alla Santa Alleanza sul cambiamento climatico. Il dato shock con il Papa di casa in Argentina. Fedeli diminuiti del 13,6%. Repubblica smentita, antisemitismo in Italia. Calo significativo, lo dicono gli ebrei. ha la verità. Il cello con lo decimo nono. Exilva prove di accordo tra governo e mita. Gli investimenti e duemila uscite. Regionali, militanti dei 5 Stelle, votano sul Russo e sconfessano Di Maio. Passa la linea di presentarsi in Emilia e Calabria. I leader siamo in difficoltà. E la questione anche del Ponte di Genova, di cui si era dimenticati nella politica nazionale, cresce ancora il Ponte di Genova. Morandi, il giallo dei sensori rotti. La minaccia degli hacker sulle maxi-navi intelligenti. Il Forum e Meditelegraph lanciano l'allarme. Andiamo avanti sull'avvenire. Il Quotidiano di Ispirazione Cattolica, che infatti nella fotonotizia ci mostra questa immagine del Papa in Thailandia. Francesco punta il dito sul turismo sessuale. Il Papa, la crisi migratoria mondiale non può essere ignorata. C'è bisogno di uomini e donne che si prendano cura dello sviluppo integrale. Altre vite perdute. Soccorsi di Open Arms e Ocean Viking. In 290 attendono un porto. Sbarchi a Lampedusa. Naufragio nel Mar Libico. Sono 70. I dispersi. I navi ONG scongiurano nuove tragedie. 66 eritrei venduti. 6 torturati e uccisi dai trafficanti. Nessuno agisce. Migranti che continuano a morire nel Mediterraneo e in Libia nei Lager. Istituiti anche grazie all'ex ministro degli interni Marco Minniti. Mondo in piazza, rivoluzione e fervescenza. Si chiede l'avvenire a proposito delle tantissime proteste scoppiate in tutto il mondo. Dall'Iran all'America Latina. La questione politica. 5 stelle. Rousseau sceglie liste alle regionali. Fibrillazioni nel governo. Exilva. Oggi vertice. Conte Mittal. E ora abbandoniamo la politica per andare nello sport sui quotidiani nazionali. Iniziamo dalla Gazzetta. La fotonotizia. In e out. Ibra e Balotelli. Il cuore è la storia perché il Milan ora ci crede. E Balotelli si allena svogliato nel Brescia e grosso lo caccia. Musica maestri. I leader domani di Atalanta Juve. Sacchi giudica i due guru. L'ex CT e il calcio di Gaspe e Sarri. Le dieci chiavi del bel gioco. Ronaldo in dubbio. Oggi si decideranno le formazioni. Tregua. Lega. Figgici. Torni. Micicchè. Marotta. Pensiamo che possa e debba ritirare le dimissioni. Compromesso tra le tensioni in vista dell'assemblea elettiva del 2 dicembre. Il regista alla scala. Tifoso del Toro. Siamo epici. Battiamo l'Inter a tu per tu con appunto il regista della scala. Il corriere dello sport. Io sono vero. Ribery come non lo avete mai visto. Mai dimenticato le mie origini. Sono cresciuto nelle difficoltà. Firenze è il posto ideale per fare calcio. La gente vive la squadra. Non amo il VAR ma mi adeguo. Il dribbling è come una religione. Il corpo mi dirà quando smettere. La squalifica. Ho sbagliato. Questi i commenti del giocatore della Fiorentina. Ronaldo cerca una via di fuga. Domani rientro dopo lo scontro con Sarri. Mentre in Spagna sono certi. A giugno lascia l'Italia. La grande forza di Mialovic. Che è tornato in campo per seguire il suo Bologna. Mentre continua la lotta contro la malattia. Curva aria aperta. Furia a gravina. E Murigno da spettacolo. Andiamo avanti su Tutto Sport. La Juve russa ha bloccato Miranchuk. L'attaccante della Lokomotiv costa 20 milioni di euro. Confermata l'anticipazione. Quadrado ha firmato fino al 2022. Alexandro a Bergamo no. Come Ilicic reclamo. Respinto nel taglio alto. Izzo, Clausolatoro, D'Ambrosio, Che Inter. Cairo ha blindato il difensore decisivo nell'ultima stagione contro i Nerazzurri. L'ex Granata stregato da Conte. È un martello da inizio stagione. Con lui 31 doppie sedute quotidiane. Stregato da Gomez il Papo di Bergamo. L'editoriale di Vittorio Feltri. Anche qui Balotelli grosso caso al Brescia perché il tecnico l'ha cacciato. E ancora l'opinione di Zoff. Fra Messi e Cristiano Ronaldo io scelgo Pelé. Coppa Davis il nuovo format. È un disastro a proposito di tennis. E allora adesso le previsioni del tempo. Subito dopo la pubblicità torneremo con la nostra rassegna stampa. Per sfogliare pagina per pagina i quotidiani abruzzesi. A tra poco. Rieccoci con Mattino 6. La nostra rassegna stampa. Adesso entriamo nel vivo del nostro Abruzzo. Andando ad approfondire la cronaca regionale. Allora andiamo subito sul centro. Dove in primo piano c'è la questione della sanità. Ospedali, la nuova mappa della regione. Quattro poli di eccellenza in rete. Pronto soccorso in tutti i presidi. Accordo di confine con il Molise per l'emodinamica. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri ha detto dobbiamo garantire l'assistenza ai pazienti in continuità e piena sicurezza in qualunque area della regione viva. La rete territoriale più posti letto per gli anziani nelle strutture residenziali. Nel taglio basso, garanzia giovani, partono due nuovi avvisi. La dotazione finanziaria è di un milione e mezzo. L'assessore Fioretti, opportunità anche per le aziende. La questione autostradale l'abbiamo letta sulle prime pagine. Pedaggi aumenti sospesi per tutto il 2020. L'emendamento al decreto sisma passa in commissione. Strada dei Parchi, gli accordi prevedevano il blocco per due anni. Ma così, a quanto pare non è stato. Imu su case inagibili, ma è una fake news. La Lega inciampa. Bollo, non pagati 800 mila cartelle. Smargiassi essenziale, però distinguere i poveri dai furbetti. Il Consiglio regionale è commissione vigilanza. I sindacati lanciano l'appello subito il nuovo gestore della sorgente sponga di Canistro. Andiamo ora ad approfondire la questione dei bed and breakfast. Bed and breakfast e sicurezza alimentare. Il Tar dà l'ok alla regione. Respinta la richiesta dell'associazione di categoria di sospendere la delibera. Febbo, i giudici hanno riconosciuto la legittimità dei nostri provvedimenti. E mentre vediamo anche questa, nella fotonotizia, questa bella tavola imbandita da colazione, che in questo orario, diciamo, ci sta proprio a pennello, andiamo a scoprire questa questione dei bed and breakfast nel nostro servizio. Noi abbiamo apportato delle semplificazioni e dei regolamenti rispetto ad una legge che aveva suscitato perplessità, accolta peraltro dalla stragrande maggioranza dei 1250 BNB che abbiamo in regione Abruzzo e che tanto portano in termini di economia al territorio, soprattutto nelle zone interne e nei piccoli borghi. Il Tar ha dovuto riconoscere che è l'ipotesi che noi abbiamo messo in gamo nel regolamento delle tre tipi di colazioni, cioè il voucher, quello già preconvezionato e invece il servire gli alimenti prodotti danno ampia facoltà e quindi non c'è assolutamente nulla da eccepire. Chi chiaramente produce questi prodotti deve attenersi a quelle che sono le regole sanitarie e giustamente che sia così e quindi devono semplicemente partecipare a un corso di solo 4 ore e riempire una modulistica di una semplicità più unica e rara perché si tratta di rispondere a delle domande e mettere delle cruci. Quindi credo che l'operato fatto dall'assessorato e dalla direzione che ringrazio per il lavoro svolto ha avuto ampiamente riconoscimento. Di nuovo in studio andiamo ora a Pescara, sempre sul quotidiano Il Centro, i commercianti cancellate la ZTL il sabato in via Regina Margherita. La richiesta discussa in commissione con le associazioni inserata anche un vertice di maggioranza. Il sindaco Masci frena i consiglieri del centrodestra. Non sono favorevole a questo cambiamento. Lo skate park via ai lavori al porto turistico parte l'intervento per realizzare una nuova piattaforma. Sarà pronta entro il prossimo febbraio. L'ho annunciato Albo Remascia. Luci di Natale accese entro una settimana. Il Comune vuole anticipare lo spettacolo il 29 novembre per il Black Friday. In piazza Salotto ci sarà una nave illuminata. Gli sponsor offrono 50 mila euro. Si respira già clima natalizio nel capoluogo adriatico. Accusata di tentato omicidio. Revoca in aula il mandato a legale. Colpo di scena in tribunale a Pescara. Dopo la caduta in casa e l'investimento subito fuori dal palazzo di giustizia. Assalta per la terza volta l'interrogatorio della donna. Accusata di voler uccidere il marito insieme al figlio. Revocati i licenziamenti. La società Aquila riparte. L'Istituto di Vigilanza ha annunciato il reintegro in servizio degli otto dipendenti. La Filcams CGL. Ora la battaglia prosegue anche per il pagamento degli stipendi. Andiamo avanti sulla questione dell'università. Non si parla però ora dell'ex cofa ma della biblioteca. Che sarà aperta fino alla mezzanotte. Dalla prossima settimana sarà ospitata in Via Tirino. Sarà dotata di due sale letture, un archivio e una mensa. Notizia importante per gli studenti in sessione di esame. L'alberghiero guarda verso l'India. A proposito di istruzione. Progetto con il Rotaract. Scambio di uso e consumi. A tavola con i ragazzi asiatici. I quartieri difficili uniscono le forze contro l'illegalità. I comitati cittadini di Fontanelle, Rigopiano e Rancitelli pronti a lottare fianco a fianco contro spaccio e degrado. Intanto andiamo avanti sulla pagina di Montesilvano. Terremoti e alluvioni. Pronto da quattro anni il piano emergenza. 36 luoghi individuati per l'accoglienza in caso di necessità. Tra questi il palacongressi, le scuole e gli stadi. Il sindaco De Martinis. Siamo tra i 24 comuni in regola. Assilli la delega sulle calamità. Addio al prof Di Marino. Allievo di Cascella. Aveva 89 anni. Lascia la figlia. Raffaella, un saluto delle ex allieve. Funerali nella chiesa di San Giovanni. Spoltore, 50 imprenditori adottano una scuola. Ritintigeranno le aule dell'istituto comprensivo che conta 900 bambini. Cinghiali sulle strade. Ora allarme sicurezza a Francavilla. L'avvocato e consigliere comunale a Cettella segue diverse cause. Se occorre installare le barriere, i dissuasori di velocità nei punti più a rischio. Intanto la protesta di un lavoratore esasperato a Francavilla protesta sul tetto del comune. La ditta mi paghi lo stipendio. Andiamo rapidamente avanti. Succhieti, viadotto da abbattere. Ponte con il cemento impoverito ma non ci sono più responsabili. Il rischio è il crollo e deve essere demolito il cavalcavia sull'asse attrezzato. Ma l'inchiesta è archiviata. La deputata 5 Stelle Torto, autrice dell'esposto, incredibile che non si riescano a trovare i colpevoli. Andiamo avanti. Gioca con l'altalena e si spezza la gamba. Ferito un alunno di 11 anni. Arto incastrato nella pedana del dondolo per disabili. L'attrezzo era transenato perché rotto dai vandali. Sequestrata ora l'aria. Una disavventura per un bambino. Ma andiamo ora a Teramo. La questione di cronaca che purtroppo abbiamo affrontato in apertura. Studente ucciso nel sonno da un infarto. E' morto a 16 anni. A trovare il corpo senza vita del ragazzo è stata la madre. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio. Alle 15 del Gaone. Ennesima tragedia. Il dolore dell'Istituto Moretti. La presida ha organizzato un incontro tra gli studenti e il vescovo. Tenta il suicidio. Salvato da agenti e passanti. Un ventenne cerca di buttarsi da Ponte San Francesco. Bloccato nonostante i tentativi di vincolarsi. Nuove regole per lo sviluppo di Silvi Alter. Il Comune accelera sulla redazione del piano particolareggiato del centro storico. E pubblica l'avviso per affidare l'incarico. Andiamo ora nel capoluogo della nostra regione. Il Capo di Stato, Mattarella. I lavori alla cattedrale saranno segno di vera rinascita. Rinascita che ancora si attende da 10 anni a questa parte. Il Presidente della Repubblica ha auspicato l'avvio del cantiere. Ancora bloccato dalla burocrazia. Messaggio di speranza nel corso di un colloquio con il portavoce della Diocesi, Don Claudio Tracanna. Il premio di laurea sulla prevenzione sismica diventa itinerante. Toccherà anche in materia l'Associazione Vittime Universitarie del 6 aprile 2009. Continua la sua opera di sensibilizzazione sulla prevenzione sismica. Resta invalido dopo l'intervento e ora pagará asla. D'Avezzano, azienda sanitaria, risarcisce per 117 mila euro un agricoltore. Subì una lesione al nervo femorale. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Morte del generale Conti. Adesso ci saranno altre indagini. Palloncini bianchi per le vittime dei nazisti a Roccaraso al sicario dei Pietransieri, ricordati 128 trucidati. Gemellaggio con la scuola di Guardia Grele. Prima di leggere lo sport andiamo sul messaggero, le pagine dedicate alla nostra regione, che in apertura ci portano anche qui la sanità. L'assessore Verina, Abruzzo, non ci sono le condizioni per varare i superospedali. Noi prevediamo quattro policlinici per prestazioni ad alta complessità. Per abbattere le liste d'attesa dobbiamo riorganizzare l'assistenza sul territorio. Si tratta di un piano realistico, non un libro dei sogni. Pensiamo che possa essere approvato a tutti i livelli. Queste le parole dell'assessore alla sanità Nicoletta Veri. Autostrade stop agli aumenti, almeno per ora. Andiamo avanti a Pescara, così Pescara finirà sott'acqua. Non solo clima, consumo di suolo, busi edilizi e condizione delle reti stanno condannando una serie di città costiere. Tra queste c'è proprio Pescara. L'allarme è lanciato dall'urbanista Michele Manigrasso, docente dell'Università d'Annunzio, l'Ateneo che progetta di trasferirsi in Riva al Mare. Una contraddizione grottesca. Università, a proposito, per ora trasloca solamente la biblioteca. Nuova sede in Via Tirino, grazie all'accordo con il Comune. La struttura resterà aperta fino a mezzanotte, anche nei giorni festivi. E c'è anche la Lega nel Mirino di Sospiri, il Presidente del Consiglio regionale. La Crociata, Comune Plastic Free, pronta la mozione. Il Presidente del Consiglio regionale prepara la fuga da Forza Italia. E tra gli approdi non c'è soltanto Fratelli d'Italia. Forza Italia che sembra alla fine della sua esperienza con la caduta del leader Berlusconi. Adesso c'è il fuggi-fuggi. Il posto a mio figlio doveva lavorare le rivelazioni in aula dei dirigenti del Comune imputati per l'appalto delle menze scolastiche nel triennio fino al 2013. Di Crescenzo ammette l'assunzione da parte della ditta che per il PM fu favorita. Marone tira in ballo la politica. La questione di cronaca. Straccia fu ucciso al posto mio. Mi chiamavano Roberto da Pescara. La nuova versione del pentito ha convinto il giudice all'aprire il caso della morte dello studente. Rigopiano, un'altra telefonata misteriosa. Non finiscono qui i misteri sulla tragedia dell'hotel. Dall'ex comandante dei vigili del fuoco rivelazioni sulla chiamata di D'Angelo non citata nel verbale del 24 gennaio. Spunta una seconda conversazione alle 12.35 tra il coordinatore dei soccorsi e il sindaco di Farindola. Tutto chiarito per i legali. Due milioni nelle case del Comune che difende l'apparecchio. Parliamo dell'autovelox di Bussi. 1.400 le vittime protestano soprattutto gli aquirani, tutti quelli di quell'area tra Bussi e Capestrano. Andiamo a proposito nel capoluogo di menzionamento scolastico. L'assessore Bignotti tira dritto. Conferenza stampa con atti e verbali. Ricevo chiamate di ringraziamento già nel 2016. Con la giunta cialente il piano fissava si istituti compressivi. E allora inventata la violenza nella palestra per l'episodio allo scientifico di Avezzano assolto in appello il magrebino che era stato condannato a otto anni di carcere. Due già scontati. La ragazza torna sui propri passi e ammette una sua partecipazione. Sarebbe stata insomma conseziente e questo dopo due anni passati in carcere. A Chieti rifiuti svolta tecnologica quattro isole per la differenziata. Il popolo dei social però tolgono posti auto. A Lanciano il broker chiede danni per 100 mila euro. Arvia il processo al suo socio in affari accusato di tentato omicidio per l'aguato al casello di Lanciano. A Teramo ospedale l'Atl tiene duro sul progetto con i privati. Bocciato il primo project financing si tenta l'accordo con un'altra impresa di Giosia Silura. Il sito di Villa Mosca è il problema dei tempi dell'appalto. La Team griffata gavioli meglio il riciclo dei rifiuti. Approfondiremo tra poco questa questione sul quotidiano La Città che per l'appunto è della provincia di Teramo. Ospedali, sei mosse per il futuro della sanità regionale. L'abbiamo visto, l'averia presentato il programma operativo inviato a Roma in vista del tavolo di monitoraggio. A proposito del decreto sisma, cabina di regia alla presidenza del Consiglio. Passa l'emendamento Zennaro. Ricerca, innovazione, formazione e sviluppo per evitare lo spopolamento. Caro pedaggi bloccato ma solo per un anno. PD e 5 Stelle sbandierano l'intesa. Strada dei Parchi rivela che l'accordo con l'ANA s'era per due anni. Teramo, una nuova fase per Teramo Ambiente. L'abbiamo detto, primo incontro in municipio tra il sindaco Gianguido D'Alberto e il socio privato Stefano Gavioli che ora appunto entra nella Teramo Ambiente. Allora andiamo ad approfondire questa questione che riguarda l'azienda pubblica Teramana nel nostro servizio. Si gira finalmente pagina la Teramo Ambiente. L'ha partecipata al 51% dal comune di Teramo che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Dopo ricorsi e contro ricorse il Tribunale di Venezia ha assegnato il 49% delle quote della Teramo al socio privato Comir di Stefano Gavioli. Nell'attesa il sindaco Gianguido D'Alberto aveva già sostituito l'ex presidente Pietro Bozzelli nominando presidente Luca Ranalli. Oggi anche il vecchio amministratore delegato Pietro Pelagatti ha rassegnato le sue dimissioni. Lunedì prossimo l'assemblea nominerà il nuovo AD e Gavioli arriva in città per fare visita al sindaco. Un primo incontro che servirà a fare il punto della situazione, prima valutazione, primissima valutazione, valutare e definire anche i contenuti dell'assemblea che come sapete è stata convocata per lunedì 25 e affrontare i grandi temi che riguardano la nostra più importante partecipata e avviare un percorso che è relativo a questa nuova fase che dovrà portarci ad uscire da un video che sapete bene è quello che abbiamo descritto e raccontato in questi mesi. In un momento dedicato della Terramo Ambiente che però sul piano dei contenuti, dei risultati sta producendo qualcosa, quantomeno sul piano della scelta amministrativa e della volontà dell'obiettivo di ridurre la Tari, avete visto anche i numeri, i dati pubblicati da Cittadinanza Attiva, il Comune di Terramo è l'unico comune che va in diminuzione per quanto riguarda la Tari, gestita dalla Terramo Ambiente, circa il 10% è così come avevamo annunciato, promesso, voluto e oggi attuato. Quindi insomma ci sono degli spirali, degli aspetti positivi su cui poter lavorare e dare un futuro alla Terramo Ambiente e ai suoi lavoratori nell'ottica però duplice di tutelare l'interesse dei nostri cittadini che in questi anni, e lo dirò chiaramente al Dottor Gavioli, hanno pagato in termini di gestione della Terramo Ambiente un prezzo altissimo, un prezzo politico altissimo, l'ho sempre dichiarato e l'ho sempre detto e a tutela anche ovviamente soprattutto dei lavoratori e delle famiglie, dei nostri lavoratori che per troppo tempo sono rimasti in attesa di vedere insomma un percorso che oggi siamo chiamati a definire. Comune e Comir cominciano dunque a dialogare sul futuro della Terramo Ambiente e promettono di dare l'avvio ad un piano industriale di investimenti che possa rilanciare appieno l'azienda. Rimaniamo a Terramo con la cronaca, cittadino del Mali salvato su Ponte San Francesco il 24enne richiedente asilo voleva lasciarsi cadere nel vuoto, l'hanno fermato due passanti e la polizia lo vedete il ponte nella fotonotizia, l'amministrazione, il consigliere Carginari, i tre primi soccorritori il sindaco d'Alberto che abbiamo appena ascoltato in ospedale per fare visita all'africano e allora siamo in dirittura d'arrivo quindi leggiamo le notizie dello sport a ripartire dal centro che ovviamente apre sul Pescara con questa doppia pagina che gioca questa sera in casa contro la Cremonese Zauri, io e Baroni smisi dopo aver parlato con lui il tecnico svela il retroscena del 2014, velocizzò il mio approdo in panchina Serie B l'abbiamo visto stasera alle 21, i biancazzurri a caccia della terza vittoria di fila a centrocampo Castanos per Palmiero se il Pescara dovesse vincere prima delle partite del weekend sarebbe il seconda in classifica ex e curiosità c'è Daniel contro Matteo, sfida tra fratelli Ciofani il tecnico Baroni torna all'Adriatico, il Delfino ha trovato certezze di equilibrio ma la Cremonese è pronta nel 3-5-2 caracciolo favorito su Ravanelli in difesa abbiamo visto stasera l'Adriatico e anche un derby in famiglia per in famiglia Ciofani andiamo ora sulla Serie C Tentardini carica, Teramo da vertice a Bari senza paura il Terzino possiamo ambire ai primi quattro posti in Puglia non sbaglieremo l'approccio Mungo sarà invece titolare e la Serie D, il Chieti primo colpo preso l'esperto Meola l'analisi del DS invece Minguzzi il diavolo farà una gran gara al San Nicola si parla del Teramo a gennaio penso che i biancorossi faranno delle mosse di mercato anche per tutelare i tanti investimenti fatti in Serie D a Vasto credo siano stati tempi sbagliati perché per far squadra allenatori in estate e poi a ottobre chiamare un direttore sportivo il commento e allora andiamo avanti con il tennis De Paolini fino a Camploni i migliori del 2019 in Passerella domani domenica mattina al Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara andiamo a leggere lo sport del messaggero Pescara serve ora la continuità questa sera all'Adriatico arriva una cremonese in ripresa Zauri senza palmieri opta per il 4-3-2-1 il Millennial Borrelli titolare in attacco torna da ex Baroni con il Delfino un amore mai nato era un ex della panchina Bianca Azzurra Garoppolo Sangue Vastese nel Quarterback la star negli USA la bisnonna era abruzzese andiamo avanti il Teramo da pieni alti visti gli investimenti parla l'ex DS di Giuseppe conosco bene Tedino e Vivarini e a Bari impaio punti pesantissimi anche se la regina è il top acquisterei subito Cancellotti la Serie D la Vastese ora cerca di tenere Dos Santos mercato alle porte l'attaccante fa gole a tanti club anche della Serie C ma la Serie D a proposito Puglielli ha detto l'Avezzano so come si fa a segnare il basket d'Arcangeli Ravenna troppo forte per il Roseto le parole dell'allenatore e allora leggiamo anche lo sport come ce lo racconta la città il quotidiano della provincia di Teramo che sicuramente darà risalto al Teramo infatti ora è il momento della verità la sfida con l'ex mai troppo rimpianto Vivarini può segnare la svolta Tentardini noi tra le prime quattro ma anche il basket il tasso tecnico di Ravenna in Chioda Roseto ma domani è già vigilia battere a ranghi completi la formazione di cancellieri sarebbe stata un'impresa ma gli Sharks avevano anche tante defezioni Spazio CSI la settima giornata non cambia la classifica Calcio CSI nelle zone medio-basse della graduatoria il Real Bellante incassa il secondo K.O. di fila tornano i seminari fiscali organizzati dal CONI Abruzzo Sport di tutti abbatte le barriere economiche la prima fase del programma è rivolta ai ragazzi che vanno dai 5 ai 18 anni di età la disciplina del calcio si arricchisce di 3 nuovi arbitri e allora questa era l'ultima notizia io vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 come tutti i giorni con il TG6 io vi ringrazio per essere stati con noi per questo venerdì e vi auguro una buona giornata Grazie a tutti